Uomini a lavoro e ruspe in azione da lunedì scorso per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile che va dall'ingresso del cimitero centrale di Fano fino al parcheggio dei camper, ovvero via della giustizia. Un intervento importante che permetterà così la ricucitura delle piste e lo sviluppo degli itinerari ciclabili. Costo complessivo dell'intervento 60.000 euro. Questa è una ciclabile attesa perché collega dei quartieri molto importanti come la Paleotta, il Poderino, tutta la zona trave verso il centro storico e il mare. Quindi mettiamo in sicurezza pedoni ciclisti che appunto usufruiscono di questa strada che poi verrà anche asfaltata in seguito. Infatti stiamo progettando e inizierà, diciamo, entro quest'anno il cantiere anche per la riqualificazione della ciclabile di Viale Kennedy. Stiamo lavorando sulla zona moderazione del traffico, zona 30 di Via Trave e di Via della Fornace e quando partirà anche questo a breve la ciclabile dell'Arzilla, riusciremo a collegare anche la zona della Paleotta dell'Arzilla con Via della Paleotta facendo anche in quel caso delle riqualificazioni per mettere in sicurezza pedoni ciclisti e quindi tutta questa zona vista in maniera organica riusciremo a metterla in sicurezza per la mobilità alternativa all'automobile. I lavori, aggiunge poi l'assessore Tonelli, dureranno per circa un mese. A seguire il cantiere si sposterà in Via della Fornace e lungo Via Trave per gli interventi di moderazione del traffico e, successivamente, migliorato il collegamento con la pista ciclabile di Fenile verso il centro storico per un costo totale di 275 mila euro. È un bellissimo intervento che stiamo portando avanti in più fasi, però la visione è quella di mobilità sostenibile e portare avanti questo grande progetto.